Tanti soldi ce l'ho! Appo va! Spendiamo! Bravo! Al corno! Esatto! Corno del bui! Ah si è nascosto! Ah figlio di mezza e mezza! Eh non si fa! Forte! Sono stato forte nella mia via! Io prendiamo un quintale così! Ci siamo comprati, questa si chiama Valkyria! Valkyria? Sai chi sono le Valkyria? Quei, quelle che mu... Assitano le mucche! Ah 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 Ciao a tutti ragazzi e ragazze! Benvenuti in questo nuovo stupendo bomba video con un ospite speciale che avete già visto! Si! Come no? Allora ragazzi questo è il secondo video che mi avete chiesto di fare con mio nonno che sapete già che le abbiamo attribuito il nome di nonno Omega che a loro piace, loro hanno detto che piace, le piace, sono un vecchetto azzillo insomma, bisogna essere un azzillo porca miseria allora oggi faremo a te una cosa bella, compreremo tutto il negozio e i soldi, ce li abbiamo già messi, stanno già caricati i soldi, sono già regalati, vede vede vede, quindi ragazzi io e nonno Omega compreremo tutto lo shop, quindi fermatelo perché è vero che tu non ti inizi a spendere e non ti fermi più? eh, eh, non mi fermo più caro Anthony perché sono un po' giù con la vista, ecco ah spendaccio, tu devi dire a loro adesso quanti mi piace devono mettere per il prossimo video insieme a te, quindi spara una cifra, 2.000, 3.000, 4.000 senti ma a me mi deve dare 5.000 euro, se no non collaboro con voi pizza ma, quindi facciamo 5.000 mi piace? eh, sì allora ragazzi come avete sentito per il prossimo video insieme piazzate 5.000 mi piace a bomba e fare un altro video dove molto ovviamente tra qualche giorno compreremo il nuovo pass battaglia della stagione 6, quindi spenderemo 150 euro di notte 150? sì, oggi spendiamo 60, 150 va bene, va bene, non ti preoccupo, io tanti soldi ce l'ho appo, va, spendiamo tu e andiamo avanti andiamo avanti, ok, allora iniziamo? iniziamo, iniziamo siamo pronti però come prima cosa ti devo chiedere una cosa allora io attualmente ho questo qua, come ti sembra? cioè, e che cosa, che cosa ti sembra questo? mi sembra un... un killer, ecco un killer? non vedi che c'ha un panino in testa? il panino? c'ha un panino, questo è diciamo, è il personaggio attuale che c'ho ah, ecco è un panino umano, cioè uno che ha la testa di un panino ah poi le compreremo, ma li vediamo tutti vedi meglio vedi meglio ma noi adesso dobbiamo comprare nel negozio oggetti tutta sta roba, ok? tutto, ah? tutto cioè, allora, questo che ti sembra? dimmi questa che ti sembra? questo mi sembra un... spadaccino, insomma una con la spada, infatti notandola c'ha una mezza spada qui, si vede, non si è piccolina però c'ha una mezza spada un'angelo, un'angelo, un ovazzo uno va bene bene ah 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 perché? e questo che ti sembra? una... un'aquila eh, è un drago questo una specie di apri comunque ci avviciniamo, è un'aquila buona è cazzuta, si si fa incazzare, si fa incazzare ah, si fa incazzare lui? no, a te questo ti fa incazzare? eh no, per dici che mi fa incazzare, quello vuole, io no eh, infatti ok, poi abbiamo questo questo che ti sembra? cosa abbiamo visto prima questa è una sentinella bravo, è un sargente un sargente, bravo un sargente una sentinella dice, crea l'accappamento ed inizia uno scontrafuoco questo sparo con le vitri si, si ma io te l'ho detto che quello aveva i vitri eh si, quello è infame non ha le armi, non le dà nessuno e poi abbiamo l'ultimo che è questo qua, che ti sembra? vediamo, vediamo un mezzo affarista ecco un mezzo affarista? però se tu lo guardi bene tipo, si chiama ah, c'ha la 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 coppola la coppola si chiama sergente grigliatore cioè questo è un cameriere praticamente sergente grigliatore yeah piccone che si deve picconare si, per andare a scavare l'oro bravo in America bravo ieri sera ho visto tante persone che è il cercatore di oro ma... l'hanno trovato? si, li trovavano mettendo 5 grammi 10 grammi poco è poco però è poco, si un'altra che abbiamo comprato questi ci sono dei balli cioè tu puoi ballare, no? tipo, vedi adesso questo sta ballando eh, eh ho visto che balla ma io ballavo ai miei tempi caro Anthony ma non così molto meglio eh, lo so e poi abbiamo anche questo ballo cioè questo qua è un corno di battaglia ti ricordi gli antichi greci? per la battaglia bravo al corno esatto il corno del bui facevano il grido di baciano bravo quindi ora li compriamo cioè li prendiamo dalla carta qui sono aumentati è piccolino però sono aumentati bene, allora decidi tu quale di questi dobbiamo comprare per prima quale di questi? va qui innanzitutto quello col mitra perché ci fa da... da schiavo da sentinello da schiavo ok, quadrato bravo e allora dice acquisto riuscito abbiamo comprato questo qui che è questo sparatutto ah, esatto benissimo ci difende, ecco bravo ok, adesso quale vuoi comprare di questi? intanto li compriamo tutti prima o qui si o uno l'altro va bene compriamo questo qua che fa i panini ecco così ci mettiamo in forza ok, vai premi di nuovo questo tasto inquadrato bravo e ne abbiamo comprato un altro ah quant'altro ce ne compriamo? uno, due, tre, quattro, cinque quattro, cinque cose ok, ora dobbiamo comprare il richiamo di battaglia vedi questo che suona? ahhh questo pazzo richiamo, richiamo bravo della truppa bravo premi di nuovo quel tasto lì che ti ho fatto vedere sempre quello bravo bravo e abbiamo anche questo ragazzi attenzione perché sta scioppando scioppando significa che stai comprando esatto lo shopping ok ok, ora prendiamo questo piccone vai di nuovo premi di nuovo quel tasto qual piccone? hai visto che sembra quello ci serve questo ci serve per spaccare il legno per spaccare il legno per zappare per zappare per spaccare in testa la moglie ecco per difenderci bravo ora compreremo sto pallo vai di nuovo premi quel tasto ma bravo comprare una bella signora è quella è una signora è una signora premi di nuovo quel tasto che comprava anche questo bravo questo si chiama terapia della danza sto pallo terapia della danza ok ora compreremo il dragone questo questo è stupè proprio bello 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 vai primi quadrato acquisto riuscito ti piace? si 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 questa è una signora però è una signora un po' demone barra angelo cioè non ci sta nel negozio di oggi perché il negozio lo cambiano ogni giorno nel negozio di oggi sta solo lì ok vedi c'ho pure le ali una bella ragazza non c'è oggi eh no non c'è però ce li abbiamo ce li abbiamo quello è importante vai fai il quadrato di nuovo ci siamo comprati questa si chiama valchiria valchirio sai chi sono le valchiria? quelli che... assicurano le mucche? no no è la valchiria è un guerriero della... sai i vichinghi? si è un guerriero vichingo la valchiria si è un cambrano bravo bravo compra tutta la roba diciamo che questa è la moglie di quest'altro vichingo vedi che questo è anche un altro vichingo si vede che questo è un vichingo questo però fa paura No, questo non lo devi comprare, ce l'abbiamo già Ce l'abbiamo, sì Ok, e niente, allora adesso, visto che abbiamo comprato, questo come lo chiamiamo? La maggior parte, un aquilone No, non è un aquilone, questo è quello col mitra Questo è quello con quello che frigge gli hamburger E questa è la Valkyria Quindi quale dei tre vogliamo usare adesso per giocare? Scegli uno dei tre Questa Questa, la ragazza? La ragazza! Eh, la ragazza Che mi fai di Wasco? Non si vede il culetto Perché è coperto dalla minigone È il piccone quello per fare È il piccone per difendere, zappare, zappare, eccetera Ok, adesso facciamo una partita Vedo mi piace, diciamo anche tu che devono mettere mi piace Ok Quindi mettete mi piace, iscrivetevi al canale Perché adesso faremo un attimo una partita rapida al volo E poi se mettete 5 mila mi piace, come ha anche detto lui Faremo un altro video tra pochi giorni quando esce il nuovo pass battaglia Spenderemo quanto, te lo ricordi? Eh, 5 mila O 50 mila 150 euro 150 euro 5 mila è un pass, è vero, babbo Noi siamo, vabbè, tu, quella che abbiamo comprato noi Vedi questo, che ti sembra? La trice pedonale No, no, questo personaggio qua Sembra un coniglio che salta Esatto, esatto Eh, proprio noi possiamo saltare Hai visto? Ma le ali, eh? Eh, sì, ce l'abbiamo le ali, ma non possiamo volare Cioè, possiamo volare solo in determinate zone Ho capito Non si può volare per tutta la map, se no sarebbe facile, capito? Va bene Ok Ma sputa pure il chiasco, sputa pure il fuoco Ma, sì, sputa, ma vuola Sì, vuola, vuola Noi vogliamo col drago, vedi, poi siamo arrivati a terra E ora dobbiamo trovare le armi Ecco, vedi, abbiamo trovato un'arma che in questo caso Non ci serve a niente, perché è un caccia I caccia, sai che sono? No, non gli aerei, quelli che si usano per andare a caccia Il fucile da caccia Ah, i fucili da caccia Bravo, il fucile da caccia Vedi, ora stiamo spaccando il legno, perché ci serve? Perché dobbiamo costruire Ci dobbiamo riscaldare Andiamo avanti, andiamo avanti Eh, però so già che mi ammazza, eh, lo so che sta qua dentro Qua? Qui? Eh, però lo devo cercare Ah È nascosto sto cane Ah, si è nascosto, ah figlio di mezza e mezza Eh, non si fa, non ci si deve nascondere Eh, eh, eh Ed è infami Infami Lo, vedi, lo, vedi, guarda che cane Ah, l'abbiamo fatto esplodere L'ho fatto esplodere C'avevo, sai cos'è il C4? C4 Non hai mai sentito sto nome, è C4? No È un esplosivo Ah, è un esplosivo, bravo, è un esplosivo Ah, ok Ammazziamo comunque Ecco, non è sceso sto coniglio Sta là dentro, sta camperando, sta fermo Ah, sta fermo Si è nascosto? Sì, lo vedi, sta lì Oh, capito Ora lo prendiamo e lo uccidiamo sto coniglio Eh, mamma mia Lo sai tu come si uccidi conigli? No Con un colpo di un pugno dietro la testa Eh, mi ha ucciso lui perché non avevo più munizioni Ah, no, no Sono fitti forti Ah, no, 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 ho comprato tutto perché è solo un pazzo Compra tutte queste cose Nessuno nel mondo compra tutto Certo, certo Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video mi raccomando un bel mi piace Ok Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video con Nonno Omega Mi raccomando perché ne arriveranno di tanti però che dobbiamo fare altri video insieme Tanti? Sì Però tu devi essere più dinamico, ti devi incazzare, devi essere forte Forte, sono stato forte nella mia via Io prendiamo un quintale così Bravo, ti volevo conoscere quando eri giovane Eh Beh ragazzi, quindi per questo video è tutto Grazie per la visione e per essere stati insieme a noi qua Omega E ci vediamo Io sono Put Spager E ci vediamo il prossimo video Ci vediamo al prossimo video Ciao, ciao